ecco cacchio anche questi filza c'è non l'ha un carrello di sti sacchetti qua cazzarola anche questo andava bene perché non si rompono e ricicliamo tutte le volte ciapa la scarpa jacopo guarda che ci sono qua quei due qua se non si rompono passagli li su a claudio se non si rompono speriamo almeno buttiamo anche quei due lì poi arrivano loro lì e si si ci danno due esatto pensa quasi come il renzo c'è il terreno che è friabile se trovate soldi se trovate soldi vale per tutti è tanto tu ne hai non ti servono e ma non c'è la radio che hanno la radio c'è la c'è la cosa o quell'altra e ma tanto arrivano adesso arrivano qua avanti anche loro bravo tienimelo lì bravissimo olé questo è un video che cerchè Grazie a tutti.